Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Gianelia Rocchi, vengo da Milano e ho fatto un impasto diretto con un 65% di idratazione, con una crema di ceci, poi patate parigine, classiche come la patata normale e ho messo poi del carpaccio di pulico, mozzarella ovviamente fior di latte, ho messo anche, dopo che ho stagliato, semi di papavero, di girasole, di anche sesamo e niente, ho fatto un quattro ore fuori e poi l'ho tenuto in frigorifero e l'ho staccato un'ora prima. Purtroppo avevo deciso di portare una biga, solo che mi si è fermato il fermabiga e me lo sono trovato tutto moscio. Alla sera ho dovuto fare il tutto veloce, non diretto. Hai aggiunto dopo lo staglio semi di papavero, semi di girasole, semi di sesamo. Dopo lo staglio? Dopo lo staglio, dopo lo staglio. Oh che finta. È una tecnica tua o l'hai vista fare da qualcuno? L'ho fatta io, mi viene un po' così, mi è venuta un po' così la creatività, ho detto devo portare qualcosa un po' di carino, diciamo innovativo e buona. Mi sono buttato su quello, ho fatto un autolisi perché comunque c'è farina di segale. Adesso siamo nel periodo di giugno, luglio, è pronta diciamo la segale da raccogliere, quindi ho detto mi sembra intonata per la stagione. Quindi l'impasto l'hai fatto con che tipo di farine? Ho fatto una zero con germe di grano e poi il 30% ho usato segale. Sale c'è qui. Sì, ovviamente c'è sale c'è. Saporita è buona. L'impasto è rimasto morbido, la cottura per me è perfetta, niente, complimenti. Sono contento. Mi è piaciuta tanto. Io non capisco perché lo fai dopo lo staglio, cioè mettere i semi. Comunque se fai un viaggio lungo e i semi sono all'interno, perforano comunque la maglia glutinica. A me serviva che comunque arrivavo qua non sapendo quando iniziavo, ho dovuto comunque dargli il tempo piano piano, sennò sarebbe stato controproducente. Ok, grazie. 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 Grazie.